andiamo prima questo qua piccolino ovviamente c'è scritto Vogana quindi immagino sia vino e infatti abbiamo vino spumante rosè e questo è il Magnum di Vogana Vini Magnum rosè di Vogana extra dry molto interessante va bene allora chiudiamo vediamo invece qua dentro cosa si tratta cosa c'è questo mega scatodone dunque wow allora questa è una spilletta lo l'abbiamo la visita di Leonardo che è il cantiniere nonché proprietario di questa meravigliosa cantina e questo cos'è ah una bella guarda che figata questa è una spilletta no una spilletta un magnete un magnete in legno di Vogana Vini fantastico questa è la spilletta grazie Leonardo gentilissimo qua abbiamo invece il brochure con le spiegazioni di vari quindi infatti vediamo vediamo di nuovo allora dunque abbiamo il rosè normale bottiglia normale questo qua è un altro rosè di Pinot sempre extra dry poi abbiamo prosecco superiore doc G sempre no brutto melesimato questa qua mentre qui abbiamo un prosecco doc tranquillo quindi non dovrebbe essere sfumatizzato qui abbiamo extra dry quello non vale e qui invece l'extra brutto meraviglioso che dire grazie Leonardo per questo meraviglioso regalo andate a vedere nel suo sito ovvero Borgana Vini sia su Instagram che su Facebook e scoprite questi meravigliosi vini che si trovano ad Asolo in provincia di Treviso Italia veramente una bella cantina e soprattutto ottimi vini ciao ragazzi alla prossima ed eccoli qua in riga con i soldatini i meravigliosi vini di Borgana Vini Asolo Treviso Leonardo veramente ti ringrazio per questo meraviglioso pensiero e cercherò di abbinarli al meglio con i miei piatti grazie davvero grazie a tutti